Sai che ti dico? Se vuoi scusarti per qualcosa, devi scusarti per... quello! Mi squaglia le pupille. Beh, non dia la colpa a me? Non ha sentito? La sindaca vuole un Natale tre volte più grande quest'anno. Significa tre volte le luci, tre volte lo zabaione, tre volte... Le informazioni richieste. Ah ah! Questa è buona! Ho capito! Questo è un altro dei tuoi scherzetti. Finalmente sei riuscito a dire qualcosa di appena divertente. Sì, io scherzo molto, ma no! Il Natale tre volte più grande! Ma la diverte tantissimo questa storia, vero? Devo dire che è una grande gioia vederla ridere! Io non parlo il ridicolese! Oh, sei uno spasso! Buona vita, addio! A dopo!